mondo. Intanto padre, per essere chiari, è un mondo che ci circonda o è un mondo parallelo? Un mondo che ci circonda, siamo strettamente collegati agli angeli, non è un mondo parallelo. Noi non vediamo gli angeli perché, non perché gli angeli non si fanno vedere deliberatamente, ma non abbiamo normalmente noi la facoltà normalmente di vederli. Dei grandi santi tipo padre Pio da Pietrecina, Gemma Galgani, ma tantissimi santi avevano un rapporto intimissimo con l'angelo, lo percepivano, tipo per esempio la famosa Natuzza Evolo, c'è il processo di beatificazione. Natuzza per esempio il venerdì non riceveva le persone perché lei diceva che il venerdì gli angeli stanno in adorazione del Signore della Croce e tutta la sua attività di Natuzza, di agnostica, si basava sul ministero evangelico. Natuzza Evolo sosteneva di vedere non solo il proprio angelo, ma anche l'angelo della persona che le chiedeva consiglio, le chiedeva che tipo di malattia aveva, che tipo di cura poteva avere. E quindi voglio dire, noi abbiamo i più grossi personaggi della storia della Chiesa che erano strettamente legati agli spiriti celesti. Vorrei dire una cosa carissimo amico Claudio. Prima Claudio parlava del 24 marzo, per 70-80 anni noi cattolici abbiamo festeggiato San Gabriele, però c'è da dire che le date erano molto varie, per molti secoli soprattutto in Spagna, il 18 marzo si festeggiava San Gabriele perché il giorno dopo, 19 marzo e San Giuseppe, anche se nel Vangelo non è detto chiaramente, ma l'angelo che appare in sogno a San Giuseppe e gli dici, prendi Maria come tua sposa, scappi in Egitto, ritorna dall'Egitto, certamente San Gabriele, adesso ci troviamo nel tempo di avvento, San Gabriele è un po' il regista della natività, perché presso gli ebrei Gabriele era l'angelo che portava i sogni ispirati, però poi dal 18 marzo noi siamo passati al 24 marzo, perché il 25 marzo è l'annunciazione. Allora mentre i cristiani ortodossi come noi festeggiano il 25 marzo l'annunciazione a Maria, poi il 26 hanno una grande festa unicamente per San Gabriele. Forse noi cattolici per non essere troppo identici agli ortodossi l'avevamo messa il giorno prima, il 24, quindi a parte le date è tutto coordinato, poi adesso purtroppo, dico io, festeggiamo Michele, Gabriele e Raffaele il 29, perché purtroppo, perché l'attenzione è focalizzata al 90% su San Michele e quasi tutti dimenticano Gabriele e Raffaele. Per me, io spesso faccio la battuta, dico che se mi faranno Papa, la prima cosa devo dividere le tre feste, quindi di nuovo ritorniamo 24 marzo San Gabriele, che è importantissimo, anche perché è l'angelo che porta le belle notizie, in modo particolare dovrebbe proteggere i giornalisti, che dovrebbero dare belle notizie e non creare paure. Purtroppo le notizie, ci sono anche quelle brutte di notizie. Però spesso sono enfatizzate, no? Gabriele porta le belle notizie. E poi il 24 ottobre rimettiamo San Raffaele, che è l'angelo degli sposi, dei fidanzati, l'angelo medico. Quindi sarebbe opportuno non metterli insieme, perché tutte e tre sono tre grandi arcani. Dovrebbero essere ricordati ognuno per... Sì, prima della riforma del Concilio Vaticano II, tutte e tre erano distinti. Poi il 2 ottobre si festeggiava... si festeggiano ancora gli angeli custodi. Il lunedì dell'angelo dopo Pasqua, l'angelo della resurrezione, ecco. Ecco, lei ha detto... e poi mettiamo in campo anche le forze che abbiamo qui con noi, e mi riferisco ovviamente a Sonia Versace. Lei ha detto che il fatto di vedere gli angeli è spesso prerogativa dei mistici. Sono stato un po' infelice, nel senso che alla fine il vedere l'angelo te lo concede il Signore. Allora, chi magari fa le carte angeliche, oppure la sera prima di andare a dormire si fa un bel bagno, che bisogna fassolo, eh? Si mette la tunica bianca, accende degli incensi particolari, la misa di magismo, non puoi forzare, è il Signore che decide chi deve vedere l'angelo oppure no. Io per tutta una vita sono stato tempestato da telefonate di persone che volevano sapere se si fidanzavano, se avevano il lavoro, perché avendo scritto tanti libri pensavano che io vedevo o parlavo con gli angeli, quindi cercavano come dire il cartomante, cercavano il magone. Io ho sempre detto, vedete, io amo gli angeli, ma non li vedo. Diciamo che gli angeli parlano a me, ma parlano anche a te, parlano a tutti. Spesso purtroppo non li stiamo a sentire, perché ci dicono fai questo, fai il bene, non fare il male. Spesso noi siamo deboli e fragili, seguiamo l'altro angelo, l'antiangelo, quello del male. Però voglio dire, è una situazione molto equivoca, perché è per permissione di Dio che noi possiamo vedere gli angeli. Quindi alla fine, se io non vedo gli angeli, è perché il Signore non ha voluto che io li vedessi.